Hanno ripreso a girare gli ski lift di Piano Provenzana e per il weekend è atteso il primo vero assalto alla neve da parte di sciatori e snowboarder. Sulle piste dell'Etna hanno già preso servizio le forze dell'ordine, con le unità sugli sci di polizia, carabinieri e guardie di finanza, questi ultimi specializzati soprattutto nelle operazioni fuori pista con la collaborazione della Forestale. Come sempre, agenti e militari raccomandano prudenza e di rispettare il dialogo della FIS, 10 regole facilmente reperibili sul web, che sciatori e snowboarder sono tenuti a conoscere e rispettare. La loro inosservanza in caso di un incidente può portare ad essere considerati in condizione di colpa e ad essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti. Sulle montagne siciliane operano anche i volontari del soccorso alpino.